i logaritmi. Gli obiettivi della lezione sono calcolare il valore di un logaritmo attraverso l'uso della calcolatrice scientifica. Risolvere un problema elementare con l'uso dei logaritmi. Questa espressione si legge logaritmo in base 5 di 25 uguale 2. Possiamo distinguere il numero 5 che è la base del logaritmo, il numero 25 l'argomento del logaritmo e il numero 2 che rappresenta il valore del logaritmo. Questa espressione viene letta nel seguente modo. Il logaritmo in base 5 di 25 è uguale a 2. Immaginiamo di dover calcolare il valore del logaritmo in base 5 di 25. Per fare questo calcolo utilizzeremo una calcolatrice scientifica che, detto tra parentesi, ha un costo tra i 15 e i 20 euro. Per calcolare il valore del logaritmo in base 5 di 25 ci serviremo della calcolatrice scientifica e in particolare di alcuni tasti. Il tasto replay, il tasto log, il tasto uguale. In particolare, per quanto riguarda il tasto log, voglio concentrare l'attenzione sul fatto che a fianco della scritta log compare un quadratino bianco che simboleggia la base del logaritmo e un rettangolo nero che simboleggia l'argomento del logaritmo. Adesso vediamo nei dettagli come calcolare il valore del logaritmo in base 5 di 25. Prima di tutto dobbiamo premere il pulsante log nella calcolatrice. Vedete che nel display appare in basso un quadratino che rappresenta la posizione nella quale andrà inserito il valore della base del logaritmo cioè il numero 5 e poi un rettangolo fra parentesi tonda. Lì andrà inserito il valore dell'argomento cioè 25. Quindi digitiamo nella tastiera il numero 5 che si posizionerà ovviamente in basso come si vede nel display. A questo punto è necessario che il cursore del display si posizioni all'interno della parentesi tonda perché dobbiamo digitare 25 cioè il valore dell'argomento. Per spostare il cursore utilizziamo il pulsante replay che dovrà essere calcato nella parte destra in corrispondenza della freccia indicata dal cerchietto rosso. digitiamo quindi il numero 25 nella tastiera e infine digitiamo il tasto uguale e avremo quindi il il risultato che è 2. Quindi il logaritmo in base 5 di 25 dà come risultato 2. dunque il logaritmo in base 5 di 25 è uguale a 2. se hai imparato ad usare correttamente la calcolatrice dovresti verificare che il logaritmo in base 8 di 4096 vale 4 che il logaritmo in base 3 di 243 vale 5 e che il logaritmo in base 7 di 49 vale 2. Vediamo di risolvere un problema elementare. Consideriamo l'espressione 5 elevato y uguale 625. Ci chiediamo quale valore deve avere l'esponente del numero 5 cioè y se voglio ottenere come risultato il numero 625. Per risolvere questo problema dobbiamo utilizzare i logaritmi. y infatti sarà uguale al logaritmo in base 5 di 625 che sappiamo calcolare. y vale 4. Cioè il logaritmo in base 5 di 625 vale 4. Infatti 5 elevato 4 dà come risultato 625. risolviamo un altro problema elementare. Consideriamo l'espressione 7 elevato y uguale 49 e quindi ci chiediamo quale valore deve avere l'esponente del numero 7 cioè y se voglio ottenere come risultato il numero 49. Y sarà uguale al logaritmo in base 7 di 49. Utilizziamo la calcolatrice e scopriamo che il valore di y è 2. Cioè il logaritmo in base 7 di 49 vale 2. Infatti 7 elevato 2 è uguale a 49. Consideriamo l'espressione 9 elevato y uguale 729. Quale valore deve avere l'esponente del numero 9 cioè y? Se voglio ottenere come risultato il numero 729 y uguale al logaritmo in base 9 di 729. Quindi y vale 3. Infatti il logaritmo in base 9 di 729 vale 3. Infatti 9 elevato 3 è uguale a 729. In un prossimo video parlerò delle proprietà dei logaritmi.